Aveva deciso di sospendere per un mese circa la propria attività e produzione per le difficoltà dettate dall'enorme aumento dei costi energetici, cresciuti del 500%. Da lunedì Tagina, azienda controllata del gruppo laziale Saxagress, ha riacceso i forni dello stabilimento di Gualdotadino. Abbiamo rinegoziato con soddisfazione i prezzi dei prodotti, commenta il presidente Francesco Borgomeo, adeguandoli ai nuovi costi di produzione per gli incrementi del gas e delle materie prime. Tutto riparte con grande fatica e con la speranza che i costi dell'energia scenderanno. Tagina è riacceso i forni lunedì e dopodomani incontrerò in città l'amministratore il presidente Borgomeo perché faremo il punto sia sulla situazione contingente ma anche e soprattutto sugli investimenti che il gruppo Saxagress vuole fare anche a Gualdotadino, che sono investimenti importanti che tendono appunto anche a andare verso l'economia verde, rendendo le fabbriche autosufficienti dal punto di vista energetico e anche qui abbiamo un nemico comune che è la burocrazia. Credo che gli itera autorizzativi di impianti tesi a garantire l'autosufficienza energetica attraverso la produzione di biometano debbano essere velocizzati perché ne va della competitività delle nostre imprese e ne va quindi anche del futuro dei lavoratori e della comunità. Ma i rincari non mettono in ginocchio solo le aziende, anche i comuni devono fare i conti con le spese per la pubblica illuminazione e per il riscaldamento degli edifici di competenza. Arriva allora la richiesta da parte di Aliumbria di attivazione di un fondo speciale per fronteggiare le difficoltà economiche. L'inflazione, il caro dell'energia, delle bollette elettriche sta mettendo in ginocchio interi settori industriali, tante famiglie ma anche i comuni e gli enti locali. Nel nostro caso siamo passati da 44 mila euro di spese del novembre 2021 a 160 mila euro di spese nel dicembre 2021. Quindi un aumento sproporzionato, una speculazione che rischia di mettere in ginocchio i nostri bilanci e quindi anche i servizi che i comuni danno. Quindi sì, spegneremo la roccaflea e aderiremo a questa protesta simbolica però la battaglia continua perché anche Anci a livello nazionale, Dali a livello nazionale stanno interloquendo col governo nella speranza che ci siano risposte immediate perché questo serve. I costi piombano come una spada di damocle anche sui nuclei familiari. L'amministrazione Gualdese ha stanziato contributi per arginare gli aumenti di luce, gas ed energia elettrica. Noi abbiamo messo a disposizione 75 mila euro riservate alle famiglie per aiuti per pagamento delle bollette di luce, acqua e gas e per gli affitti. Abbiamo studiato un bando molto snello e semplice, l'unico requisito è la residenza nel comune e un'ISE non superiore a 15 mila euro. Le domande possono essere fatte entro il 31 marzo per dare la possibilità a chi ancora non ce l'ha di fare l'ISE. Come si vede i comuni, non solo il nostro, stanno cercando di mettercela tutta ma da soli sicuramente non ce la facciamo. Quindi a maggior ragione serve un intervento delle istituzioni sovracomunali. Come si vede i comuni, non solo il nostro, stanno cercando di metterciare, Grazie.